Ciao ciao a tutti ragazzi, siccome oggi è il mio compleanno, vi farò un bonus video sui 13 cose che non sapete su di me! Vi volevo dire che alla fine di questo video farò i saluti, che è anche da tantissimo tempo che non lo faccio e vi volevo anche dire che da questo video in poi saluterò solo le prime 10 persone che commentano E adesso iniziamo! Numero 1! Da piccolina avrei sempre voluto da grande diventare una giardiniera e sì, veramente, volevo comprarmi un bel terreno grande e coltivare Numero 2! La mia più grande paura è sempre stata quella di vomitare Davvero! E anche di avere la nausea Numero 3! Io sono veramente molto fissata con l'igiene e mi lavo le mani veramente tantissime volte al giorno 4! Il mio secondo film preferito è A Beautiful Mind mentre come sapete già il mio primo film preferito è Il Favoloso Mondo di Amelie 5! La mia prima lingua è stata l'inglese, però poi ovviamente ho imparato l'italiano Numero 6! Da quando sono nata sono sempre andata ogni anno in America La prima volta che ci sono andata avevo 7 mesi 7! Il mio cantante preferito italiano è Lucio Battisti 8! Ho iniziato a fare video su Youtube per puro caso Il mio primo video è stato un box opening di una bambola Rebor 9! Vorrei tantissimo vivere negli Stati Uniti, ma i miei genitori purtroppo non vogliono 10! Sono di Napoli, ma non so parlare il napoletano, però vorrei tantissimo imparare 11! Ho smesso di suonare il sax perché mi stancavo troppo, ci voleva troppo fiato Ma penso che l'anno prossimo prenderò lezione di clarinetto 12! Una volta ho avuto un polpo come animale domestico e l'ho chiamato Marco 13! La mia bisnonna americana è metà nativa americana cerocchi, cioè mezza indiana E ragazzi, ecco le 13 cose che non sapevate di me e ricordatevi di mettere tantissimi like E se volete iscrivetevi a questo canale e ricordatevi che oggi è il mio compleanno Comunque, adesso andiamo avanti con i saluti Allora Ciao le meme di Phil Ciao Aurora Ciao Miss Foxer Ciao Isabella Moraru Ciao Sofia Venni Ciao Anna Maria Ciao Anna Principi Ciao Chiara Ciao Alessia Ciao Manu Kawai Ciao Safia Ciao Stefania Ciao Andrea Jlock Ciao Giada Ciao Chiara Ciao Patrizia Ciao Silvia Ciao Allegra E ragazzi, spero tantissimo che vi sia piaciuto questo video Ricordatevi di mettere tanti like e se volete di iscrivervi a questo canale Ci vediamo nel prossimo video Alla prossima ragazzi